Tu hai qualcosa di strano, Mac. Sai che mi dico, freddi dieci a cinque che è un occhio di lince. Un che? Un piedipiatti, un segugio, un investigatore privato. Sai da che l'ho capito? No. Perché facciamo lo stesso lavoro. Oh. Il fatto è che sono qui dentro per risolvere un cazzo.